Ecco a voi il buio, sono nella casa dei nonni e vi farò vedere una cosa. Il terrore circonderà l'esistenza. Vedete quel puntino? È l'abbraccio di un fantasma. Un giorno all'altro tornerò e mi vendicherò con tutti. E ecco il punto. Sorpresa, benvenuti nella casa dei nonni. E' una cosa che non avete mai visto prima. Quella che vedete accanto è la libreria. L'altra cosa che vedete accanto è la testa, cioè la mia. E poi lì abbiamo una bella libreria con anche una coppa. Se la vedete è quella lì. Aspettate che vi do lo zoom. Mettiamo un po' così. Vi faccio vedere che lì ce la sarebbe la coppa. Poi qui invece c'è lo sgabuzzino e c'è il corridoio un po' scuro, scusate. E lì c'è solo un sacco di cose. C'è anche qui. C'è anche il letto. Vanno. E questi sono i miei nonni. Guarda nonno ti sta prendendo. Pensa. Poi questa è la mamma ma quella non la conosciuta. Queste qui sono i miei nonni. Numero 7 cronomaliatari, la televisore. E questo. Ricordiamoci le coppie del mio nonno, un campione di pesta. Pesta. Poi ve lo spiegherò, ve lo traduccherò anche in inglese. Qui tutto. Oddio, odio. Sto scherzando. Qui c'è la porta. Quadro. Questa qua è mia mamma. Da piccolina. Qui. Qui sono un quadro. E qui c'è l'attrezzatura da pesca. Mi raccomando. Poi il resto è tutto ok. Scusate per l'interruzione del buio ma... Non dovevo farne.